Ciao a tutti, oggi siamo in Fornello e vi faccio vedere come fare una torta di carote. E' veramente molto semplice, gli ingredienti sono 400 g di carote tritate, 3 uova, 300 g di zucchero, un bicchiere di olio di semi, 300 g di farina, una bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Iniziamo! Miscoliamo le uova con lo zucchero. Ci aiutiamo con un cucchiaio in legno e piano piano mettiamo tutto lo zucchero all'interno delle uova. Poi ovviamente questa torta la potete anche personalizzare con l'aggiunta di mandorle, con qualche liquore. Io vi faccio vedere la ricetta base. Una volta ottenuto un composto cremoso aggiungiamo il nostro bicchiere di olio e la farina. Anche qui piano piano. cerchiamo quindi di evitare di formarsi dei grumi. Quando inserita la farina mettiamo il nostro lievito per dolci e un pizzico di sale. ottenuto un composto omogeneo mettiamo le nostre carote, continuiamo un po' a girare e poi lo mettiamo in una tortiera ricoperta da carta da forno. Inforniamo il tutto a 180 gradi per 20-25 minuti. E voilà, ci vediamo dopo per la prova a stuzzichino. Perfetto, un test del stuzzichino superato. Volendo potete dare una spolverata di zucchero e buon appetito. Ciao!